Ciao a tutti, bentornati al canale delle recensioni. Oggi andiamo a vedere e testare un nuovo oggetto veramente molto tecnologico e soprattutto che è andato a coprire una zona scoperta per quanto riguarda il mondo dei droni. Per l'appunto si tratta di un mini drone che sta qui dentro ed è l'Overair X1. È un microscopico drone, un selfie drone, che serve per l'appunto per autoriprendersi e per ottenere dei video di impatto o anche semplicemente dei video ricordo senza necessariamente ricorrere a dei droni professionali o comunque abbastanza complessi anche per quanto riguarda il rischio che correte durante proprio la fase di volo perché per utilizzare un drone bisogna avere anche una certa esperienza. Io di droni ne ho già posseduti diversi, sarò al quarto o quinto modello di drone e questo devo dire che si differenzia totalmente rispetto ai droni attualmente prodotti. Che cosa di tanto diverso? Per prima cosa è veramente piccolissimo e quindi avete visto che si può inserire tranquillamente all'interno di una qualsiasi tasca e questo lo rende un drone particolarmente amichevole per chi come me va in montagna e fa gite magari anche di più giorni o anche addirittura dei trekking, viaggi trekking, in cui ogni singolo grammo di peso è influente sulle performance e sulla fatica che andremo a fare durante i nostri giri. Quindi anche il drone più leggero in circolazione, che sono meno di 250 grammi, con il radiocomando andiamo a sfiorare o comunque forse addirittura superare il mezzo chilo di peso. Qui invece con 125 grammi abbiamo tutto quanto in questo oggettino. Il drone è veramente molto molto semplice, si può comandare senza alcun tipo di comando, di radiocomando oppure lo possiamo comandare anche manualmente o programmandolo tramite lo smartphone, tramite la sua applicazione. Ha una gabbia protettiva che per l'appunto protegge queste quattro minuscole eliche e fa decisamente il suo dovere perché l'ho già testato durante un'escursione e il drone si è schiantato contro dei rami e devo dire che non ha riportato danni. Quindi questo drone è un drone che è fatto proprio per essere anche molto resistente. Non ha un gps quindi la navigazione viene gestita tutta tramite un software di intelligenza artificiale che rileva la nostra figura e quindi una volta inquadrato il soggetto si regola e calibra le distanze e tutte le inquadrature in base al soggetto che ha catturato. E poi sono presenti anche dei video sensori nella parte inferiore che servono proprio per regolare l'altezza del drone durante l'utilizzo. Bisogna tenere presente alcune piccole precauzioni durante l'utilizzo di questo drone. Essendo un drone che non ha gps dobbiamo fare attenzione a non farlo volare su superfici eccessivamente riflettenti o nel vuoto completo perché lui avendo questi sensori inferiori che sono appunto dei video sensori rischia di andare in palla. Quindi questa è l'unica accortezza che dobbiamo avere quando utilizziamo questo drone. La videocamera è una videocamera 2,7k con gimbal e stabilizzatore di immagine. La videocamera è veramente microscopica come del resto tutto il resto del drone. Qui c'è la sua batteria e il drone senza batteria praticamente sembra veramente fatto di aria non c'è praticamente quasi nulla. Sembra un giocattolino ma non è un giocattolino il drone è decisamente professionale. Adesso andremo a vedere un po' di funzionalità di questo drone. Ci sono diverse modalità di volo, andremo a testare anche la modalità manuale, vedremo brevemente l'applicazione e poi esprimeremo un nostro parere. Come vi dicevo il drone può essere comandato assolutamente senza telecomando, senza applicazione, quindi basterebbe che noi ci portassimo dietro il drone e saremmo già a posto così. Adesso vi faccio vedere l'utilizzo quindi manuale senza applicazione poi dopo daremo un'occhiata veloce all'applicazione. Come funziona? Si tiene premuto il pulsante di accensione, lui parla e tramite il feedback vocale ci dirà le ultime impostazioni che avevamo memorizzato in precedenza. Qui è presente un pulsantino più piccolo che se noi schiacciamo con un singolo click è in grado di farci cambiare la modalità di volo da una modalità all'altra. Quindi in questo momento ha detto over. La modalità over è la modalità in cui praticamente il drone si alza e resta statico e ci segue durante quello che facciamo. Adesso ogni modalità ve la mostrerò qui davanti qui in giro per la baita e vi farò capire esattamente in cosa consiste. La regolazione della distanza in modo manuale avviene tenendo schiacciato sempre il pulsantino piccolo e adesso per esempio ci ha detto 30 secondi. La voce è in inglese non so se verrà poi aggiornata anche in italiano in futuro quindi in modalità over possiamo settare il tempo mentre nelle altre modalità possiamo settare la distanza alla quale il drone ci riprenderà. Adesso ho messo una modalità di ripresa continua quindi deciderò io poi quando stoppare il drone semplicemente mettendo la mano sotto il drone facendolo atterrare. Per farlo decollare lo mettiamo davanti alla nostra faccia clicchiamo una volta sola ok in questo momento il drone ha iniziato la ripresa si è accesa la luce rossa e praticamente adesso lui mi continuerà a seguire in tutti i miei movimenti dobbiamo anche considerare che comunque il drone rileva la nostra figura quindi non dobbiamo stare in un ambiente in cui ci possiamo confondere mimetizzarci con l'ambiente circostante perché sennò a quel punto il drone farebbe fatica a continuare a seguirci però vedete che ancora adesso anche a distanza il drone continua a seguirmi per farlo atterrare mano sotto e vedete che lui atterra in modo molto semplice la seconda modalità zoom out quindi la zoom out praticamente si allontana da noi anche qua attenzione il drone non ha sensori quindi facciamo attenzione a non farlo schiantare contro un ostacolo che magari ci possiamo trovare dietro quindi guardiamo sempre dietro ho impostato la massima distanza di zoom out andiamo a vedere anche questa quindi adesso volerà a 9 metri da me e poi tornerà indietro mettiamo come al solito la mano sotto e lo facciamo atterrare la terza modalità è la modalità follow che anche questa può essere personalizzabile possiamo regolare la modalità follow più vicina più lontana più in alto più in basso follow ci segue da dietro quindi ci riprenderà alle spalle facciamolo partire vediamo se riesce a passare anche l'ostacolo della tettoia sì mi ha già inquadrato fino a 25 chilometri orari a a Adesso mi ha perso perché sono passato sotto ma se io vado davanti lui è in grado di riagganciarmi e di conseguenza di continuare a seguirmi. Mano sotto, il drone termina la registrazione e atterra. La terza modalità è la modalità orbit che ci orbita attorno che adesso non farò qui ma la farò in un posto un pochino più aperto, comunque ve la lascio da vedere in modo che possiate rendervi conto anche di questa modalità. È possibile selezionare un giro a 180 gradi, 360, tre giri completi e anche qua ci sono varie regolazioni di altezza che si possono fare. Questa qui è la modalità bird eye che praticamente lancia il drone verso l'alto in verticale e ci crea una di quelle tipiche riprese ad effetto dall'alto verso il basso, come se fosse un razzo sostanzialmente, a 15 metri, adesso volerà su in alto a 15 metri. a 15 metri, adesso volerà su in alto a 15 metri, adesso volerà su in alto a 15 metri, in alto a 15 metri, adesso volerà su in alto a 15 metri, adesso volerà su in alto a 15 metri. Ed eccolo di ritorno. Pronto ad atterrare sul nostro palmo della mano. L'ultima modalità si chiama custom e personalizzabile attualmente in due modalità. la dolly track è la snapshot che serve per fare fotografie. Quella che interessa a me è la dolly track che ci segue ma anziché seguirci da dietro ci segue dal davanti, quindi ripresa frontale. anche qua attenzione mi raccomando perché il drone andando indietro deve essere controllato tramite i nostri movimenti, quindi noi gestiamo la ripresa praticamente spostandoci e cercando di far evitare gli ostacoli al drone proprio accompagnandolo in qualche modo, comandandolo con la nostra figura corporea. Vediamo. Ecco vedete adesso per esempio io qui ho la bandiera che potrebbe dar fastidio. siamo in uno spazio adesso veramente molto angusto, vedete ha sbattuto contro la tettoia adesso e il drone sta facendo l'atterrano d'emergenza. Vedete che comunque anche in caso di collisione non c'è nessun problema, il drone non difficilmente si danneggia. Andiamo in uno spazio un po' più aperto. Ecco qui è decisamente meglio, si presta decisamente meglio. dell'inquadratura la possiamo fare appunto muovendoci col drone, vedete. io adesso posso anche tornare e lui regola l'inquadratura in base un po' alle mie scelte. questa è una modalità particolarmente creativa. Per far tornare il drone da noi poi stiamo fermi perché ovviamente se noi ci avviciniamo al drone lui si allontana, stiamo fermi tre secondi e il drone torna da noi. adesso diamo una occhiata molto veloce all'applicazione e tra l'altro, guardate, ci sono appena usciti degli update dell'applicazione, quindi sicuramente a livello software il drone è in continua evoluzione. aggiorniamo. Allora qui abbiamo per esempio la preview dei filmati che abbiamo registrato prima, quindi possiamo vedere una preview a bassa risoluzione. per vederla alla massima risoluzione è necessario scaricare poi i file. l'applicazione devo dire è molto semplice ed intuitiva. quello che poi ci interessa di più è over setting, vedete qui abbiamo tutte le modalità di volo, per esempio guardiamone una a caso, facciamo la zoom out, vedete c'è la modalità di shooting, cioè di ripresa, possiamo selezionare foto o video. la distanza, 9 metri ma possiamo anche stare più vicini, un metro e mezzo. l'altezza, se vogliamo una ripresa bassa alta o ancora più bassa. video segmentation, questa credo che sia una roba uscita forse con l'ultimo aggiornamento. video quality possiamo selezionare 2,7 oppure anche hdr a full hd in hdr e questo per praticamente tutte le modalità. una cosa che voglio provare con voi e che non ho ancora provato è il sound recording. quindi se noi mettiamo on cosa succede? che noi praticamente adesso abbiamo la possibilità di registrare anche l'audio del nostro video tramite il microfono del telefono. e la cosa sbalorditiva è che questo software è in grado di eliminare il rumore, il ronzio delle palle del drone. quindi andiamo a provare magari subito questa modalità. io direi però, già che ci siamo, andiamo sul manual control. proviamo la modalità manuale, brevissimamente. manual control. adesso quindi sto comandando io. faccio andare verso l'alto. abbasso un po' il gimbal. faccio ruotare un po'. lo sposto un po' indietro. e vedete che abbiamo la possibilità di fare anche delle riprese più personalizzate quindi senza necessariamente utilizzare i suoi comandi automatici quindi possiamo anche gestirlo noi e soprattutto anche per un discorso di regolamentazione così siamo in regola perché abbiamo un comando manuale come richiesto per l'appunto dalle regolamentazioni ENAC. la ricarica del drone può avvenire in due modi o tramite questa base di ricarica che è in grado di ospitare due batterie anche questa davvero leggerissima e si carica tramite un cavo usb type c oppure direttamente tramite la porta usb type c del drone. ma traiamo qualche conclusione dopo aver testato sia oggi che sul campo perché questo drone l'ho già utilizzato durante un'escursione in un video che è uscito o uscirà sul mio canale principale quindi andatelo a vedere. allora non entriamo nel merito delle normative perché le normative ovviamente non è che possono essere fatte per ogni singolo drone questo è un drone che è un mondo a parte è un selfie drone andrebbe fatta una normativa apposita quindi questo drone segue tutte le normative dei droni con videocamera sotto i 250 grammi però insomma se abbiamo un po' di buon senso riusciamo benissimo a capire che questo drone è totalmente innocuo è poco più di un giocattolo anche se ha una videocamera professionale e di conseguenza quello che vi consiglio di fare cerchiamo di usarlo insomma magari non proprio in mezzo a una zona super affollata perché sappiamo benissimo come vanno le cose però nella vita di tutti i giorni per andare al mare o se siete a passeggio in giro per boschi non abbiamo sicuramente di che preoccuparci ripeto questo drone è del tutto innocuo non può causare danni è proprio impossibile perché comunque ha una gabbia non raggiunge velocità particolari non raggiunge quote particolarmente elevate e di conseguenza è un drone del tutto innocuo in conclusione io devo dire che sono abbastanza entusiasta di questo drone che oltretutto è il primo modello probabilmente ci saranno poi dei successori di questo drone magari avremo in futuro anche una videocamera 4k chi può dirlo comunque la qualità della videocamera per questo drone di dimensioni così microscopiche è davvero notevole era quello che in un certo senso io cercavo perché molte volte il drone lo lasciavo a casa perché non volevo portarmi peso anche per le gite in giornata in cui delle volte voglio essere super leggero quindi questo veramente è come portare dietro meno di uno smartphone perché pesa meno di uno smartphone e ci permette di registrare dei video di qualità e con un impatto tipico delle riprese effettuate con i droni se volete approfondire vi lascio tutti i link di iscrizione vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate il mio commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovissimo e super innovativo mini drone ciao a tutti alla prossima